L'ha sentito per noi Michele Paldera. La difesa del Bari è passata in 90 minuti da difesa bunker a reparto sotto accusa. Sì, abbiamo preso tre gol nell'ultima partita, sono stati episodi un po' sfavorevoli, però credo che non sia una partita a mettere sotto accusa un reparto che ha fatto così bene finora. Quindi penso che prenderemo in alto i nostri errori e per la prossima partita cercheremo di limitare tutti i nostri danni, i nostri errori. Ecco, ma nelle fasi più importanti, quelle cruciali della partita contro l'Albino Leffe, quanto vi è mancato in difesa un uomo di esperienza, un uomo con molti campionati di Serie B alle spalle? Credo che già in campo abbiamo tanta personalità e quindi parliamo anche molto. Credo che in quel momento lì della partita era proprio il momento, quindi non credo che un uomo di esperienza sarebbe servito più di tanto la domenica scorsa. Credo che la partita sarà messa in quel modo lì, quindi non c'era più nulla da fare, insomma. A Padova per il riscatto, quindi? Certamente.